Il processo sui rimborsi ai singoli consiglieri dell'epoca dell'inchiesta, che già è stato deciso un altro, sempre sui costi della politica, ma stavolta per i rimborsi ai gruppi consiglieri. Il 20 marzo, prima udienza per 12 rinviati ieri a giudizio per peculato, 29 sono ex consiglieri regionali, compreso l'ex assessore Rosa Gentile, che oggi è presidente di Acquedotto Lucano. Gli altri sono Roberto Falotico, Agatino Mancusi, Franco Mattia, Giacomo Nardiello, Nicola Pagliuca, Vincenzo Ruggero, Mario Venezia e Vincenzo Viti. Per Antonio Autilio, il tredicesimo imputato, è stato disposto in non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. L'inchiesta tocca due diverse legislature perché riguarda il periodo a cavallo tra il 2009 e il 2011. È forse bene ricordare com'era allora il rimborso spesa ai gruppi, che è stato poi proprio in seguito allo scandalo, più volte riformato. I conti sono piuttosto complicati. La legge prevedeva però una voce fissa per ogni gruppo e un'aggiunta supplementare per ogni componente del gruppo. E quindi per tutto il 2011 il quadro complessivo è come appare in sovraimpressione. 149.340 euro a favore del PD, il gruppo allora più numeroso con 10 consiglieri. 125.052 euro al PDL, forte di otto componenti, poco più di 52.000 euro all'Italia dei Valori, che allora disponeva di tre consiglieri, e 223.776 euro complessivi per tutti e nove i monogruppi che nel 2011 affollavano l'aula consigliare. La spesa complessiva è stata allora di 556.000 euro. Sono cifre nemmeno paragonabili a quelle di oggi, di gran lunga più modeste. Ma la riforma è stata imposta dalla pressione dell'opinione pubblica, che però ha finito per indaccare anche il prestigio dell'istituzione regionale. Grazie. 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 Grazie.